Ciao ragazzi Ciao a tutti ben ritrovati in questa seconda parte del video regali che ho ricevuto da parte di una mia fedele follower Rox, ossia rosa, ed anche il regalo del mio amico Davide che non sono riuscita a farvi vedere nel video precedente ma lo vedremo oggi inizio col dirvi che se non siete ancora iscritti qui sul mio canale youtube fatelo e attivate la campanellina per ricevere la notifica ogni qualvolta esce un nuovo video e vi invito a lasciare sempre un like a condividere i miei video con i vostri amici che amano l'ASMR e poi volevo aggiungere un'altra cosa che non dico sempre però penso sia il caso di dirlo perché io qui non spingo tantissimo su questa cosa quando in realtà forse andrebbe fatto non lo so voi sapete che io su questo canale ho attivato tardi gli abbonamenti li ho attivati a febbraio 2022 perché io sono sempre stata del parere che youtube debba essere una piattaforma gratuita e quindi dato che comunque il content creator ricava dalle visualizzazioni gratuite che voi fate e soprattutto dalle pubblicità, dalle inserzioni quindi ho pensato sempre sbagliando forse non lo so che magari attivare l'abbonamento qui non era buono perché comunque una forma di introito c'era e di conseguenza perché porre un canale a pagamento ai propri utenti però poi l'anno scorso ci ho ragionato sopra e finalmente a febbraio 2022 mi sono decisa di attivare gli abbonamenti però effettivamente io non ho mai spinto su questa cosa non lo so se è l'inconscio però ritengo una voce dentro mi dice che è giusto farlo soprattutto ragazzi perché adesso lo spiego molto velocemente adesso le cose su youtube come avete potuto vedere sono cambiate allora io ho sempre messo la pubblicità a inizio e fine dei miei video in alcuni video solo all'inizio e alla fine no però perlopiù ho messo inizio e fine perché noi solo da lì guadagniamo dalle pubblicità nel mezzo non le ho mai messe tranne quando è capitato qualche volta che su qualche video di default forse mi sono dimenticata di togliere le impostazioni è capitata la pubblicità nel mezzo però poi quando mi sono accorta perché qualcuno me l'ha segnalato l'ho rimossa prima tu potevi decidere di fare video di mettere la pubblicità dove ti pare adesso siccome io la monetizzazione come tutti gli altri miei colleghi l'attivo sempre non c'è più la possibilità di poter rimuovere la pubblicità alla fine premetto che io l'ho sempre messa tranne qualche volta adesso di default ci sarà sempre solo le pubblicità nel mezzo e questo è un problema che a me non riguarda perché comunque io non metto le pubblicità nel mezzo possiamo decidere di mettere o togliere però inizia a fine se tu decidi di monetizzarlo quel video ci stanno per forza solo le midroll che sono le pubblicità nel mezzo non vengono possono essere decise da noi cioè se metterle o meno e vabbè questo io non lo facevo prima non lo faccio manco adesso è cambiato poco in sostanza qui sul mio canale il discorso delle pubblicità perché io nella maggior parte dei miei video le pubblicità a inizio e fine le ho messe sempre alcuni decidono di metterle solo all'inizio altri invece inizio e fine nel mezzo è la cosa più sbagliata mettere un video in un video di assemblare la pubblicità detto questo so anche che non sempre pur mettendo la pubblicità alla fine la pubblicità parte non so perché però vabbè meglio in questo caso per voi adesso questa cosa qui è diventata proprio legge per chi accetta la monetizzazione accetta il fatto a meno che tu non voglia mettere un video su youtube demonetizzato ma lì ragazzi a quel punto non so quanto servo a pubblicare video perché dai ricavi che io guadagno dalle vostre visualizzazioni dalle pubblicità io mi compro cose per il canale prodotti per le live da utilizzare in live fare trigger visual trigger queste cose qua cioè mi serve per quello la monetizzazione siccome adesso probabilmente nel settore nel settore in generale dell'smr ci potrebbe essere un canale di visualizzazione in generale non parlo del mio canale in generale vi invito ragazzi se vi va a supportarmi con gli abbonamenti che hanno veramente un costo irrisorio ripeto nel mio canale non cambia quasi nulla perché io le pubblicità onesta io le ho messe sempre inizio e fine sono onesta so che ci sono content creator che le attivano solo all'inizio io invece la maggior parte delle volte sempre inizio e fine ma adesso pur volendo togliere il pubblicità alla fine non si può più fare se si decide di monetizzare su quel video quindi niente detto questo se avete piacere ad abbonarvi come supporto a me farebbe tanto piacere perché mi rendo conto che questa decisione è presa da youtube dove io non posso più decidere se in un determinato video metto la pubblicità alla fine o meno mi rendo conto che questa cosa può essere un po' debilitante per chi guarda i video sml perché io nei video brevi inizio e fine a bucina la metto sempre però nei video lunghi molto lunghi dove c'è l'alta probabilità che una persona si addormenti io a fine la pubblicità non la metto anche se ho visto qualcuno mi ha detto guarda Mary che la pubblicità c'era però di solito io quando l'ho rimossa l'ho tolta da lì adesso anche se i miei video saranno lunghissimi alla fine ci sarà comunque la pubblicità ripeto per me non cambia molto perché ho sempre messo la pubblicità alla fine però ci sono state delle eccezioni sul mio canale dove io non mettevo le pubblicità alla fine nei video molto lunghi non le mettevo perché comunque ha detto si addormenta poi si sveglia detto ciò questo per la fine non sarà più possibile nel mezzo invece possiamo fortunatamente ancora decidere quindi ragazzi mi rendo conto che ci può essere un ulteriore calo di visualizzazioni in generale nel mio canale se vi va di supportarmi con un abbonamento io ve ne sarò grata che è al costo di un caffè vero? adesso torniamo a noi vi mostro i regali che ho ricevuto c'è questa bellissima lampada che vi voglio mostrare a luci spente sempre un regalo di rocks che è bellissima cambia in vari colori cambia in vari colori spettacolare 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 personalmente io la trovo fantastica questa lampada ragazzi ma proprio bella 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 appunto prima mi dicevo in virtù del fatto che adesso io non potrò più scegliere se alla fine mettere o non mettere la pubblicità anche se ripeto io nella maggior parte dei miei video l'ho sempre messa questo potrebbe comportare specialmente nei video lunghi dove adesso non si può più scegliere se alla fine video mettere la pubblicità un caro di visualizzazioni da parte del pubblico e per questo vi invito se vi va a supportarmi con un abbonamento però ragazzi credo che questa piattaforma lo faccia perché molto probabilmente vuole spingere la gente ad abbonarsi a youtube premium per togliere del tutto le pubblicità perché una volta che tu d'abboni aiuto premium le pubblicità non le vedi più però ragazzi speriamo che non vadano mai a toccare le pubblicità mid roll cioè quelle nel mezzo perché il giorno che effettueranno questa modifica a livello permanente spero mai io credo che il futuro dei video smr qui su youtube possa essere veramente compromesso per ora diciamo che questa modifica che hanno apportato tocca solo alcuni content creator e cioè quelli che nell'ambito dell'esmr la pubblicità alla fine non l'hanno mai messa ma io mi sono sempre regolata in base alla lunghezza cioè quando mi rendo conto che effettivamente i miei video sono abbastanza brevi e che molto probabilmente lo spettatore non si addormenta in quei 10-15 minuti di video le inserisco nei video più lunghi non l'ho mai messa ci tenevo a dirvelo a sta cosa perché ragazzi purtroppo c'è stato questo cambiamento che ripeto da me non sarà notevole perché ho già messo le pubblicità io a fine dei video però so che quelli più lunghi non avendoli mai messe so che adesso non potrà essere non sarà più possibile scegliere e mi sembra corretto e giusto dirlo come stanno le cose chi decide insomma non sono io posso solo decidere per le pubblicità nel mezzo di rimuoverle che chiaramente non l'ho mai messo passiamo poi agli altri regali sono degli anelli natalizi luminosi con tema babbo natale pozzo di neve albero di neve sempre da parte di rosa e ora ne andiamo a prendere quelli quindi allora l'intensità, la velocità dei colori, da quello che ho capito io non la posso cambiare però queste lucine al buio ragazzi secondo me sono carine da vedere ora non li metto tutti perché sennò non ci sbrichiamo bene però anzi forse è meglio mettere qualche altro posto per vedere tutte le dita piene visual drinker non ci sbrichiamo non ci sbrichiamo non ci sbrichiamo non lo so non lo so non Sì, sì, sì. Sì e questi erano gli anelli ragazzi che d'ora andiamo a spegnere Rox io non so come ringraziarti, sei veramente una fantastica persona e li mettiamo a posto l'ultimo dei regali di Rox è questo qui questa molla colorata che ha la particolarità di accendersi questa si mette praticamente sul comodino, sul mobiletto in stanza per i vostri bambini la si accende solo che purtroppo non riesce a stare fermo l'on off questa cosa mi dispiace un po' ragazzi ecco ho fatto un po' di pressione in più e qui come potete vedere ci sono le stelline che sparano al cielo ragazzi naturalmente di fronte abbiamo già le luci quindi si notano poco ma mi assicuro che a buio si vedono vedete qui per far compagnia ai vostri bimbi insomma e noi invece lo utilizziamo come visual trigger in guerra luminoso luminoso la luce rallenta la luce rallenta e aumenta da sola la luce e non 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 per ultimo vi mostrerò invece il regalo di Davide che è la rosa nella teca questi erano tutti i regali della mia dolce rox rimaniamo sempre al buio e vi mostro la rosa vi mostro la rosa intanto qui guardate con il regalo di Davide ci sono quelli ora per compriando auguri alla vera più speciale che esista ci sono tutte le foto grazie grazie c'è anche l'una una cosa carissima e ci facciamo un po' di tapping grazie Davide regalo molto gradito grazie 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 Guardate com'è bella ragazzi Devo dire che ringrazio enormemente tutti voi ragazzi per il supporto, il calore, l'affetto che mi date da ormai 4 anni Per me ogni giorno con voi è un regalo Siete un regalo per me Ringrazio ancora una volta Rox e Davide per avermi pensato E spero di avervi rilassato almeno un po' Ci rivediamo nel prossimo video Se vi va Ciao tesorucci miei